Siamo allo sport e calcio, parliamo del Pescara, toto allenatore, finora giornata di fatto interlocutoria. Zeman sembra sempre in avvantaggio su Colombo che corteggiato dalla Carrarese, il club toscano ha offerto un biennale all'ex allenatore del Monopoli che non ha ancora dato una risposta perché naturalmente aspetta il Pescara, C per C ha già deciso, Colombo sceglie Pescara. Pescara che però è su Zeman ma la giornata interlocutoria, non ci sono stati passi avanti, calma sostanzialmente piatta. Ebbene, si pensa anche a un terzo candidato, spunta un terzo candidato, la domanda non è affatto peregrina, l'ipotesi è tutt'altro che peregrina e comunque la decisione sull'allenatore entro e non oltre la giornata di martedì prossimo. Intanto il Foggia, lo ricordiamo, ha ufficializzato Roberto Boscaglia, l'ex allenatore di Palermo, Novara, Entella, Brescia e Trapani ha firmato un contratto di un anno con opzione, precedentemente il club pugliese era stato rifiutato proprio da Alberto Colombo.